Ciao a tutti, benvenuti su TechGaming e in questo nuovo video su Animal Crossing New Horizon vi spiegherò come fare il glitch che vi permette di duplicare, triplicare, quadruplicare eccetera eccetera delle tv o comunque degli oggetti di una certa dimensione, anche le katane e così via dicendo. Attualmente Nintendo non ha ancora patchato nulla quindi potete fare questo glitch tutte le volte che volete per poi vendere tutto a Mirko e Marco e fare stelline a volontà. Come funziona? Allora prima di tutto voglio togliere di mezzo le tv che ho clonato e vi spiego come funziona. Allora dovete fabbricarvi due tavoli, questo e questo, praticamente servono due tavoli di queste dimensioni, due per due è questo qui e poi abbiamo due per uno che è questo qui. Dopodiché assicuratevi di prendere un oggetto tipo un televisore o una katana, un oggetto che comunque occupa tutto questo tavolo. Quindi posizionate l'oggetto sul tavolo. Ora non riesco a posizionarlo bene perché non mi sono messo bene. Ok, faccio così, libero un po' di spazio altrimenti non posso fare nulla. Che poi diciamo questo glitch al termine della procedura potrebbe buggarvi anche i tavoli. Quindi poi insomma vi basterà spostarli manualmente per prenderli. Allora, riposizioniamo il tavolo. Ok, e la tv da duplicare, triplicare e così via dicendo. Ok, fatto questo allora posizionate il tavolo grande al centro della stanza e questo tavolo dove volete con la tv sopra. Premete la freccia in basso per entrare in questa modalità. Ora, premete L e tenetelo premuto per selezionare il tavolo con tutta la tv. Quindi praticamente dovete collocare il tavolo in questo modo, in modo tale diciamo che la tv e il tavolo ruotino automaticamente. Quindi ad esempio se la tv è in orizzontale voi posizionate il tavolo in verticale eccetera eccetera. Dovete fare questo giochino diverse volte per diciamo fare in modo che il glitch rimanga. Ora, non fate questo gioco qui ma assicuratevi di selezionare il tavolo altrimenti il trucco non funziona. Ora, io ho toccato la tv e non dovevo farlo, quindi non so se il glitch andrà a buon fine. Probabilmente sì perché non mi fa collocare più la tv in questo modo. Ok, cambio stanza, vediamo se il glitch è andato a buon fine. Se è andato a buon fine vi rispiego un secondo la procedura. Vediamo un attimo. Ok, è andato a buon fine, come potete vedere ho tre televisori. Ora, non posso prenderli perché sono glitchati, sono invisibili come potete vedere. A differenza di quello originale che ovviamente posso intascare, però diciamo non facilmente perché è tutto glitchato. Quindi, che cosa dovete fare? Allora, premete di nuovo la freccia in basso e adesso come potete vedere potete spostare le tv dove volete e anche il tavolo. Quindi il glitch è veramente molto semplice ragazzi, ve lo rispiego di nuovo e adesso ripeto la procedura. Allora, prendo i televisori, uno e due e tre, più il tavolo perché devo riposizionare il tavolo che si è glitchato. Infatti, come vedete, si è glitchato e anche questo televisore, quindi premo la freccia in basso, vado qui, sposto il televisore, sposto il tavolo da un'altra parte in modo che posso riprenderlo. Lo vediamo un po', ok, funziona, tolgo di mezzo l'erbaccia e prendo il tavolo. Ok, allora, ripeto la procedura, posiziono il tavolo, questo due per due che potete fabbricare con il legno al centro della stanza e posiziono un altro tavolo che è il due per uno, se non vado errato, che potete sempre fabbricare dove volete. A questo punto posiziono il televisore da duplicare, triplicare e così via dicendo e lo metto su questo tavolo, quindi mi avvicino al tavolo e ci posiziono sulla tv. Ora entro in questa modalità con la freccia in basso, quindi premo L e mi assicuro che sia selezionato il tavolo. Ora sposto il tavolo un paio di volte, assicurandomi ovviamente che sia selezionato il tavolo e non la tv. Assicuratevi che la tv ruoti insieme al tavolo, altrimenti il glitch non funziona. Quindi, diciamo, ripetete la procedura diverse volte fino a quando non riuscite a ottenere il glitch. Come vedete a volte è fastidioso perché selezionate la tv, ma a voi vi occorre solo il tavolo. Ok, in questo modo qua, vedete? E a questo punto uscite, andate in un'altra stanza, tornate nella stanza precedente per avere gli oggetti duplicati, triplicati, eccetera, eccetera. Potete tranquillamente venderli a Mirko e Marco e farvi un sacco di soldi. Adesso andiamo da Mirko e Marco e svendiamo tutto e vi faccio vedere quante stelline riuscite a fare. Ora, premetto però che i televisori hanno un costo di 100.000 stelline l'uno, se acquistati. Quindi, diciamo, ci vuole un po', credo, per recuperare la prima spesa. Però, a voi vi occorre un solo televisore, quindi faccio così. Quindi, mi assicuro che un televisore resti in casa, perché, dopo tutto, se voglio rifare il glitch, mi serve un televisore. Quindi, ok, ho sbagliato, scusate. Torno di nuovo nella stanza di prima e lascio il televisore in casa. Quindi vendo tutto il resto e lascio un televisore per il glitch. Quindi, adesso vado da Mirko e Marco e vi faccio vedere quanti soldi faccio. Quante stelline guadagno. Quindi andiamo da Mirko e Marco. In questo modo, diciamo, potete arricchirvi velocemente, senza il bisogno di cambiare ogni volta la data sulla console. Quindi, è una procedura molto, molto semplice e veloce, fino a quando Nintendo non la paccia. Quindi faccio, vorrei vendere, ok, e adesso vendo tutte le TV. Quindi, uno, due, tre, quattro, non so quante ne ho fatte, cinque, cinque, ok, le vendo. Vediamo un po', quanto guadagno. 123.750 stelline. Il che è una miseria, considerando che una TV mi è costata 100.000 stelline. Però, diciamo, in questo modo qua, ho recuperato i soldi del televisore e ho guadagnato 23.000 stelline. Naturalmente, se fate 100 televisori e li vendete, è comunque una bella spesuccia, un bel guadagno. Quindi, potete clonare qualsiasi oggetto che abbia quelle dimensioni. Quindi, la TV, la katana e tutti gli altri oggetti, due per uno. Quindi, la procedura è questa e funziona per adesso, perché Nintendo non ha ancora pacciato nulla. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento. Grazie a tutti.